ciao a tutti bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato a good notes oggi sono qui per mostrarvi come importare in good notes dei template dei taccuini degli appunti digitali che magari avete trovato su internet o che avete scaricato avete acquistato e che volete appunto utilizzare sul vostro ipad quindi una volta scaricato il template una volta acquistato questo template come fare per importarlo in good notes ora vi mostro tutti i passaggi possiamo farlo intanto da dove si trova precisamente il nostro template o il nostro taccuino digitale io in questo caso vi farò un esempio con un template che ho io che ho creato io che potete trovare sul mio shop www.franceschielpini.it in cui appunto ci sono diversi template e taccuini digitali che hanno lo scopo proprio di essere utilizzati in good notes o in altre applicazioni che supportano i file pdf oppure che possono essere stampati e utilizzati in formato cartaceo questo è soltanto uno dei tanti che trovate sullo shop quindi mi raccomando alla fine del video date uno sguardo allo shop www.franceschielpini.it vi lascio comunque tutte le informazioni nella descrizione quindi sono su dropbox ma può essere dropbox può essere google drive può essere file può essere qualunque luogo in cui voi avete salvato il file che avete scaricato e che volete importare in good notes io sono su dropbox perché è l'applicazione che utilizzo proprio per conservare i file che scarico magari dal pc perché se li scarico da iphone vanno direttamente su file e li prendo da file mentre se li scarico dal computer mi è più pratico salvarli in dropbox perché ce l'ho appunto anche sull'ipad e sull'iphone quindi una volta trovato il nostro file bisogna andare su condividi esporta una copia e qui molto semplice abbiamo apri in good notes quindi automaticamente questo file verrà aperto in good notes importato in good notes adesso dobbiamo scegliere dove salvarlo io in questo caso lo importo come nuovo documento quindi non va salvato in tutti gli altri documenti che ho o nelle altre cartelle che ho va come nuovo ed eccolo qui importato e già aperto e pronto per essere utilizzato quindi prendo la mia apple pencil e posso andare a scrivere in questo documento questo è uno dei tanti passaggi che possono essere fatti per importare documenti in good notes quindi direttamente da dove è stato salvato il file ma adesso vediamo come importarli da good notes dall'applicazione apro la mia applicazione queste sono tutte le mie cartelle e tutti i miei taccuini vado su nuovo e clicco su importa quindi vengono aperti i miei file che si trovano su ipad ma possiamo anche vedere i cloud drive io da qui scelgo il file ci clicco sopra e lo apro in good notes se invece vogliamo aggiungere questo file come una nuova pagina del nostro taccuino quindi io ho già importato come nuovo taccuino voglio aggiungere un altro template accanto quindi come pagina successiva clicco qui sulla pagina quindi sul più e vado su importa anche in questo caso vado ad importare un nuovo documento un nuovo file pdf nel mio taccuino io in questo modo mi sono importata in good notes praticamente tutti i template e tutti i taccuini che ho creato questo è soltanto uno è solo un esempio vi faccio vedere anche qualcos'altro questo è un altro taccuino che ho realizzato io elenca respira che è sostanzialmente una visione giornaliera di tutte le cose da fare l'ho realizzato quindi l'ho creato l'ho salvato sul computer come file pdf che è lo stesso file che riceverete una volta acquistato scaricato comunque dal mio shop da lì l'ho spostato in dropbox e l'ho caricato in good notes l'ho importato in good notes e questo è il taccuino quindi c'è la data le cose da fare gli eventi la coccola del giorno una cosa bella di oggi e rimando a domani questo è solo uno vi faccio vedere anche gli altri due il secondo taccuino che ho creato è questo organizza respira che è appunto un agenda se così vogliamo chiamarla un agenda un taccuino un planner che è non datato quindi può essere utilizzato in qualunque momento e ha diverse visioni alla visione mensile la visione settimanale la visione giornaliera uno spazio per creare una vision board del mese le riflessioni del mese alla fine appunto del mese con le finanze quindi le entrate e le uscite faccio vedere questa che è una visione giornaliera perché le altre sono già tutte piene devo duplicarle e continuare ad utilizzarle quindi questa è la visione giornaliera c'è sulla sinistra la timeline che va dalle 6 la mattina fino alle 23 poi abbiamo oggi mi sento la data le cose da fare uno spazio vuoto che può essere personalizzato come preferite e importante quindi le cose importanti ma se volete vederlo tutto vi invito anche a seguirmi su instagram qui ho pubblicato un reel in cui vi mostro tutta l'agenda tutto il taccuino e ovviamente potete trovare le immagini sul mio shop l'ultimo taccuino che ho creato è questo scrivi respira che è un diario della gratitudine e anche qui abbiamo oggi sono grato per i miei obiettivi e priorità del giorno per me oggi vorrei un ostacolo che ho superato oggi è una cosa che ho imparato e poi possiamo scrivere la data e cerchiare il giorno della settimana quindi come vi dicevo questi da qui ne li ho creati li ho caricati su dropbox e poi li ho importati in good notes questo è come importare un file un template un taccuino in good notes spero che questo video vi sia stato utile mi raccomando iscrivetevi al canale per altri video dedicati a good notes vediamo insieme come importare sticker come creare sticker come funziona effettivamente good notes ci sono diversi tutorial a riguardo quindi iscrivetevi al canale io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video ciao